Al contrario, uno che scriveva stando in Inghilterra, cioè di macchine ne vedeva un po' di più, ne vedeva il significato sociale, non solo politico delle macchine, cioè Marx, capitale, libro primo, capitolo tredicesimo, capitolo sulle macchine, qui ci sono tutte e due le mosse teoretiche, cioè la mossa che dice la tecnica finché resta in mano al capitale consiste nell'approfondimento dello sfruttamento attraverso l'incorporazione del lavoratore nel capitale fisso, cioè nella macchine. Il lavoratore diventa un pezzo di macchina per cui tutte le abilità si perdono, il lavoratore deve fare soltanto pochi movimenti meccanici appunto e al tempo stesso, allora, da una parte la macchina è il modo materiale di esistenza del capitale, è il mezzo di lavoro che schiaccia l'operario, è il capitale che si trasforma in macchina. Tuttavia, allora, qui c'è la condizione di lavoro che condiziona il lavoro, e tuttavia, se oggi c'è un regime di fabbrica che è una disciplina da caserma, si parla palesemente di uso capitalistico delle macchine, e si fa capire che si può benissimo pensare una volta che si sia modificato radicalmente il modo di produzione, cioè il modo di produzione divenga cooperativo, ci sia una strada spalancata per l'uso non capitalistico delle macchine. Altra ipotesi, come vedete, cioè, qui abbiamo che la tecnica è, da una parte, una dimensione centrale dell'esistenza, cioè, però, questa dimensione centrale non è più tecnica, è economica. La tecnica prende senso non da se stessa, non da una condizione positiva precedente che la tecnica distrugge. La tecnica prende senso dall'economia, dal modo di produzione. è molto più sofisticata come analisi. Non c'è più lo scontro con la tecnica. Lo scontro, allora, e qui salta fuori una cosa importante. Tutta la critica della tecnica, a parte Marx, è sostanzialmente antimarxista. Cioè, consiste in una mossa teorica che è questa. Non è vero che la chiave dei problemi, o meglio, non è vero che il problema sia il modo di produzione. No, non è vero. Questa è un'idea socialista sbagliata. O il problema non c'è e stiamo vivendo felici e contenti, oppure se c'è un problema è a monte. Ed è la tecnica. Qui c'è proprio questa. Come il marginalismo tende a distruggere la critica dell'economia politica, così la critica della tecnica tende anch'essa a distruggere la critica dell'economia politica. La questione è ben altra. Questo ce lo mettiamo in testa. Cioè, possono dire anche un mucchio di cose sensate, intelligenti, però l'intento è questo. Cioè, di ridicolizzare la critica socialista, marxista, ridicolizzarla come facente è la stessa parte del problema. Perché Marx non è frontalmente contraposto alla tecnica. Marx non serve. Tipico, tipico il discorso di Weber, il discorso di Schmitt. Cioè, dopo tutto sono capitalisti e comunisti, fanno le stesse cose, sono la stessa cosa, stanno al mondo con le stesse idee, e semplicemente fanno a gara gli uni contro gli altri per chi fa meglio la stessa cosa. Chi comincia? Quel genio di Nietzsche. Non sto dicendo che la critica della tecnica è fatta da sciocchi. Vi ho detto però il modo con cui, come è nata e come è stata pensata. Vinicius le vedeva tutte, le vedeva tutte, umano troppo, qui c'è una serie di citazioni, umano troppo umano, primo volume, pagina 281 della traduzione italiana, noi apparteniamo a un'epoca alla cui civiltà corre il rischio di essere distrutta dai mezzi della civiltà. Breve, sintetico, non c'era una parola da aggiungere, oppure l'epoca del lavoro, la modernità, non può non rovesciarsi in inganno greco, mecanè. Il lavoro non è libertà. Che il lavoro sia libertà è la tesi di Hegel ed è la tesi di Marx, attenzione, il lavoro per Marx è reificazione adesso, ma non è reificazione per sempre. Qui invece si spazza via tutto. Il lavoro è dura fatica e se non è dura fatica è meccanizzazione dell'uomo. Nel lavoro non ne va del soggetto, il lavoro non è la via attraverso la quale il soggetto si soggettivizza, nel lavoro ne va solo del principio di utilità e basta. Le cose importanti che noi facciamo le facciamo quando non lavoriamo. C'è tutto ed è un franice, ci sono i figli dei fiori, c'è tutto, c'è tutto il novecento. Fra menti postumi 87-88, quelli che poi vennero chiamati la volontà di potenza, l'umanità è un enorme ingranaggio di ruote sempre più piccole, volte al massimo, scusate, l'umanità non c'entra niente, noi viviamo in un, cito, enorme ingranaggio di ruote sempre più piccole, volte al massimo dello sfruttamento e a minimizzare il valore dell'uomo. L'uomo si deteriora perché non si sa più a che cosa mai questo enorme processo sia servito. È il murino che macina a se stesso di Novalis, automatismo. L'orrore della tecnica è che va avanti da solo per questi autori. E dunque nella tecnica si realizza la forma estrema di ciò contro cui Nietzsche ha filosofato per tutta la vita, cioè la duplicazione del mondo. la duplicazione del mondo la si fa con la morale, esiste un mondo superiore e un mondo inferiore, la si fa con la religione e la si fa con la tecnica. Ogni duplicazione è al tempo stesso manifestazione di volontà di potenza dei deboli e di nichilismo. Perché quando duplichi il mondo tu con la copia ti servi della copia per distruggere l'originale. La morale è un sistema di valori che serve a distruggere le cose di questo mondo che di solito sono beatamente immorali. La tecnica è la fabbricazione di un mondo due che serve a distruggere il mondo uno e questa è volontà di potenza ma dei deboli ovvero sia è nichilismo passivo. passivo vuol dire ci vai a finire dentro senza concertene perché sei un poveraccio sei travolto da quello che tu pensavi fosse il tuo mondo ti mangia è fatto apposta per mangiare il mondo e mangia anche te. A tutto ciò contrappone il nichilismo attivo ovvero sia l'oltreuomo quello sì che è un soggetto ma perché non lavora perché fa la guerra perché sfida il destino antiborghese e antisocialista ma non nazista per carità non ci pensava neanche non era un suo problema a parte qualche discrepanza cronologica il problema di che cosa sono non gli veniva in mente gli veniva in mente che cosa quali sono le vie sbagliate lungo le quali si è sviluppata l'Europa moderna pensiero di mostruosa potenza filosofare col martello pensiero di mostruosa potenza la tecnica voi vedete è investita della questione dell'essere che cosa è essere è l'oggetto prodotto il produttore ha a che fare con l'essere o è soltanto un povero ente e l'oggetto prodotto che cosa diavolo è mai è qualche cosa o è un sogno di potenza che va a finire nella impotenza ovvero sia detto in un altro modo la storia chi la fa la fanno gli uomini o la fa la tecnica e non è forse il caso stesso quando si pensa di fare la storia si sta già facendo tecnica e non bisogna pensare in termini di storia ma semplicemente di evento e di consegnarsi all'essere che però non parla perché gli abbiamo tagliato la lingua chi è stato a tagliare la lingua dell'essere Platone naturalmente barlumi dell'essere stavano nei presocratici lì c'è la sapienza un accenno la tecnica è la è la nostra storia di pensiero occidentale è la metafisica l'invenzione della metafisica è l'invenzione della tecnica sono la stessa cosa perché la metafisica vuol dire inventarsi delle idee generali che spiegano le cose di questo mondo in termini di apparenza ed essenza l'essenza spiega l'apparenza io conosco l'essenza quindi sono signore del mondo uno scienziato ragiona lo stesso modo scienziato moderno conosce il linguaggio metafisico che sta dentro la natura lo tira fuori e così domina la natura dire scienza dire tecnica dire metafisica è la stessa cosa è tutta volontà di potenza una bolla dentro la quale stiamo l'essere di cui parliamo quando dentro la metafisica si parla dell'essere come fondamento è un ente non è l'essere l'essere è un'altra cosa nella nostra lingua non viene mai fuori che cos'è l'essere è lui che deve parlare non possiamo parlare noi dell'essere tutto ciò è lo sforzo tremendo di Heidegger perché di Heidegger sto parlando per rovesciare la filosofia come un guanto per farla sostanzialmente tacere basta parlare dire la parola dire l'essenza dire la potenza dire la tecnica sono la stessa cosa cioè è l'incubo dentro il quale siamo entrati con Platone e da cui non usciamo non usciamo grazie a noi stessi ecco la differenza la differenza tra Heidegger e Junger sta qui Ernst Junger bravino non è il genio folgorante di Heidegger Ernst Junger è stato letto da Heidegger come l'ultima parola della filosofia occidentale cioè come l'espressione vera di quello che voleva dire Nietzsche ecco cioè abbiamo un Heidegger che a partire dalla metà degli anni trenta del ventesimo secolo legge accanitamente forse innatamente il libro di Ernst Junger dell'Operaio che è un libro del trentadue non male non male un po' troppo lungo ma non male che cosa c'è scritto nel libro di Junger c'è scritto c'è scritto che l'uomo non è più un uomo ma è diventato un'altra cosa questa altra cosa è l'arbeiter che cosa è l'arbeiter è un tipo è una figura nuova ulteriore perché che cosa l'ha fatto cambiare perché l'uomo non è più l'uomo vuol dire non c'è più il soggetto borghese sostanzialmente perché perché c'è il lavoro meccanico come si manifesta il lavoro meccanico facile con la guerra la prima guerra mondiale la folgorazione della prima guerra mondiale è ecco la tecnica nella nello scritto preparatorio dell'arbeiter un testo che si chiama di totale mobile che è un testo del trenta un breve saggio del trenta c'è proprio di nuovo l'immagine di una turbina mossa dal sangue la faccenda del mulino ritorna la turbina mossa dal sangue la tecnica è produzione per la distruzione produzione per la distruzione e l'uomo l'uomo non è più un uomo l'uomo è un ingranaggio poi si tratta di capire se ci comanda se è l'ingranaggio principale o se è un ingranaggio subalterno però però è un ingranaggio ha perduto la propria qualità umana heidegger dice bene finalmente uno che ha capito poi naturalmente come fa ogni filosofo tedesco dice sì ha capito ma al tempo stesso non ha capito niente e c'è proprio negli appunti di lettura di heidegger rispetto a Jung c'è sempre la blending l'accecamento questo vede e al tempo stesso è cieco che cosa vuol dire vuol dire che qui vede questo libro del 32 di Ernst Jung è un libro importante perché insomma c'è una forte intuizione che è questa è tutta una serie di rovesciamenti non è più il soggetto che lavora ma è il lavoro che crea il soggetto non c'è più l'uomo che imprime una forma sul mondo ma è il mondo meccanizzato che imprime la forma sull'uomo certamente c'è l'idea ecco c'è l'idea che non si sta andando allora i critici della civiltà di carattere liberale questo io un Ortega e Gasset alla stessa altezza cronologica dicevano sostanzialmente signora mia dove andremo a finire cioè vedevano nella meccanizzazione dell'Europa negli anni 10 20 e 30 vedevano soltanto disordine qui invece c'è l'idea che quello che si forma è un ordine un ordine nuovo solo non è più umano cioè la forma c'è la gestalt c'è solo l'ha fatta la tecnica e l'arbeiter il lavoratore che Cantimori voleva il giovane Cantimori che era fascista con forti simpatie per la Germania diciamo così voleva tradurre con milite del lavoro e non direi neanche una cattiva tradizione cioè vuol dire il lavoro è violenza perché il lavoro è tecnica e questa violenza non è distrugitrice certamente ma al tempo stesso è produttrice di un ordine nuovo certo un ordine che è una turbina che funziona con sangue certo è un ordine anche quello si capisce che cosa sta succedendo non era quello che credevamo di volere ma è quello che succede l'arbeiter non è un individuo ma è lui dice un titano per cui è ambiguo su questo Ernst Yonker cioè non si capisce bene se sta dicendo che l'arbeiter non conta niente perché è soltanto un grosso ingranaggio oppure come a volte gli scappa detto è l'arbeiter che dà senso a tutto quanto oscilla come oscilla in un testo bellissimo un brevissimo raccontino di poche pagine messo in un libro suo molto bello che si intitola Il cuore avventuroso la cui seconda edizione del 38 c'è questo saggetto che si intitola Il canto delle macchine è fenomenale perché c'è la descrizione di un laboratorio di notte non c'è l'uomo e questo laboratorio è pieno di macchine di strumenti di quadranti di antenne che da cui esce un ronzio una luce che sembra che queste macchine appunto abbiano una autonomia parlino cantino ecco cioè l'uomo è scomparso e ci sono queste le macchine che dicono una lingua che non è più comprensibile per l'uomo ebbene alla fine di questo raccontino dice Ernst de Unger il canto delle macchine ci afferra riempiendoci dell'orgoglio del vincitore chi è il vincitore sono le macchine che hanno vinto o è l'uomo che le ha costruite ed è diventato esso stesso una macchina e in questo modo ha perduto la propria umanità ma ha vinto perché infatti Heidegger che era un po' più che intelligente lo capisce subito che qui c'è una debolezza concettuale cioè dice Ernst de Unger bravissimo cieco perché parla il linguaggio del secolo e ancora è dentro la trasformazione della parola in acciaio certo però è ancora lì che pensa che questo sia una tappa di una storia cioè è ancora immerso nello storicismo pensa che se ne verrà fuori e infatti nel famoso libretto del 1950 Iberdilene sulla linea Junger parla di Iberwindung superamento sì adesso ci siamo siamo al punto zero siamo al muro del tempo siamo sul meridiano zero ma ne veniamo fuori perché ma non merito nostro perché tutto quello che sta succedendo è l'automovimento della terra qui c'è Goethe dietro la quale nell'automovimento è come un serpente che si è rivestita di squame d'acciaio ma poi la pelle la cambia alla Überwindung Heidegger contrappone la Fervindung in un libro di risposta che si intitola La questione dell'essere Zurseinsfrage no niente Überwindung non si va da nessuna non c'è movimento non c'è un progresso tu hai visto una cosa ma pensi che questa sia una tappa no questa è una fine questa è una fine è la fine della metafisica guarda dove è andata a finire dove doveva andare a finire nella volontà di potenza dispiegata nella tecnica nell'americanismo nel fordismo da cui nazismo e comunismo sono la stessa cosa del capitalismo bene fervinnung l'approfondimento e poi la remissione la remissione ma non devi fare niente vedete è proprio la filosofia che muore cioè la filosofia non indica la prassi non dice più devi stare in questo mondo Hegel avrebbe detto stare nella contraddizione solo che per Hegel la contraddizione aveva in sé l'energia del superamento qui c'è una contraddizione nella quale si sprofonda e basta poi ci penserà l'essere a manifestarsi come quando vorrà in una radura cioè in questo in un aperto che non creiamo noi non veniamo fuori noi dal buco di talpa in cui ci siamo infilati in Heidegger c'è proprio la fine della filosofia e la tecnica come vedete è caricata di significati potentissimi cioè che cosa è essere che cosa è nulla lo capisci a partire dalla tecnica il destino dell'occidente lo capisci a partire dalla tecnica qui non a caso questi se la prendono con Platone che adoperava la parola tecnica sia per fare i vasi sia per il filosofo che porta l'uomo alla propria umanità tutta è tecnica e quindi la nostra idea di governare la tecnica verrebbe derisa da Heidegger cosa vuoi governare la tecnica che governa te cosa credi quando ci fu una crisi una delle molte crisi dei missili i sovietici montarono gli SS-20 che a qualche anno se lo ricordo i giovani non sa neanche di cosa sto parlando io mi ricordo che chiesi a uno che se lo intendeva ma perché hanno costruito gli SS-20 che razza di idea cioè missili di raggio intermedio c'erano i missili balistici intercontinentali e i missili invece tattici è veramente una mossa destabilizzante aver costruito gli SS-20 con il raggio di 3-4 mila chilometri con i quali minacciavano l'Europa risposta gli sono cresciuti degli stadi intermedi dei vettori balistici intercontinentali non sapevano che cosa fare se hanno fatto gli SS-20 la tecnica che aveva generato insomma una brutta una brutta crisi con la quale gli americani risposero piantando i missili Pershing in Germania i missili di Cruz in Italia e allora poi ci fu un reciproco smantellamento perché perché gli erano cresciuti degli stadi intermedi per non sapere che cosa fare col cascami della tecnica facciamo insomma una discreta minaccia all'Europa governare la tecnica quindi qui è impossibile queste prospettive tutti coloro che oggi pensano al ritorno alla natura per scavalcare la tecnica si muovono all'interno di una posizione di posizioni teoriche altissime che di solito non sospettano nemmeno sono posizioni ipercritiche super radicali che sono quasi degli esperimenti mentali gli esperimenti mentali che invece qualcuno prende immediatamente sul serio generando ipotesi neoludistiche decrescite e cose del genere cioè una semplificazione di problemi e di posizioni io e chiudo vi dico questo beh l'ho già detto affrontato così la tecnica è una questione insolubile perché diventa la questione dell'essere e se la prendi sul serio ti devi fermare e lasciare che le cose vadano avanti cose che non ha senso sostanzialmente messa così cioè se la tecnica diventa un'ipotesi assolutamente autonoma rispetto ad ogni dato empirico è il modo d'essere nel mondo dell'uomo e allora sarà anche quel modo d'essere nel mondo sarà anche problematico ma non riusciamo a rovesciarlo vero? E del resto l'ipotesi che esista una natura vergine con cui possiamo riconciliarci purché buttiamo via la tecnica beh la volta che hai mal di denti vedrà che ti viene voglia di avere un analgesico ecco sono è un modo di porre la questione che è assolutamente è inevitabile se tu parli di tecnica senza parlare e ti accorgi ecco ti accorgi che la tecnica è veicolo di dominio che la tecnica è una realtà in cui si manifesta un potere che è al tempo stesso umano e sovrumano beh no se non riesci a vedere che il dominio della tecnica è un dominio nel quale si coagulano molte altre forme di dominio compreso il dominio economico non vai da nessuna parte in realtà quello che noi qualcuno patisce della tecnica è in ultima analisi il fatto che attraverso di essa si massimizza un rapporto di potere non della tecnica sull'uomo ma neanche per idea dell'uomo sull'uomo ecco basta andare a vedere a grattar via non trovi la natura intatta che la tecnica avrebbe conculcato se grattavi la tecnica trovi il proprietario della piattaforma trovi il proprietario dell'impresa e allora tutto torna a essere un pochino più comprensibile e un pochino più gestibile perché contro la tecnica non vai contro un proprietario di imprese insomma un margine di azione se vuoi ce l'hai ecco che la tecnica è diventata da ambito strumentale l'arcano dell'essere ed l'arcano dell'essere può essere riportata ad essere una delle figure attraverso le quali si manifesta l'arcano del capitalismo che ormai non vediamo più non lo vediamo non lo vediamo e vediamo soltanto i suoi prodotti tecnici e ci accorgiamo del dominio che quei prodotti tecnici esercitano su di noi e diamo la colpa alla tecnica in realtà la tecnica non è altro che il raccoglitore la spugna che assorbe la forma fondamentale del dominio che insomma secondo me è ancora una forma del lavoro subalterno diciamo così altrimenti il problema è impostato come problema della tecnica a solo la soluzione idegariana cioè la soluzione non è in mano nostra lì c'è un destino che deve consumarsi sgradevole ipotesi rispetto alla quale è più gradevole l'ipotesi che dietro la tecnica ci sia non l'eraclito perduto ma un un robusto capitalista vi ringrazio per l'attenzione